patto con riscatto vasco rossi su radio in in attesa di vederlo a palermo a giugno allo stadio renzo barbera con 70.000 fortunati che vivranno spalmati in queste due date palermitane questo concerto live ma si mi sa praticamente di sì anche un film che c'è stasera appunto appunto che film c'è stasera c'è ciurè c'è ciurè del di giampiero pumo abbiamo avuto l'onore e il piacere di anticipare questa anteprima di stasera e ci ha intrigato molto la storia del della protagonista di ciurè che è qui con noi che vivian bellina buongiorno grazie per avermi invitata vivian ha una storia particolare perché oggi c'è il debutto la tua prima volta da attrice e inizi così bam bam già da protagonista e si come come è accaduta questa cosa cioè se tu dovessi raccontare no dici a tu fai l'attrice ma veramente la prima volta e come è successo particolare è successo quasi per caso una mattina io abito nel quartiere di ballarò da due anni ormai una mattina passo da questa mia amica che ha una bottega lì e ci vado molto spesso da questa persona quel giorno mi disse viviano ma vuoi fare l'attrice io pensavo mi stesse prendendo in giro talmente tanto che ho pensato ma che tipo film porno per caso è in realtà poi no mi ha messo in contatto con appunto con giampiero pumo che stava cercando appunto questo personaggio per questo film è rimasto colpito da dal mio nome perché nel film surat c'è appunto questa citazione al film pretty woman e da lì appunto poi via via ci sono stati dei cast delle videoconferenze dove ci siamo conosciuti e poi il casting finale dove effettivamente anche per me è stata un un'esplosione di qualcosa che io non non immaginavo di me stessa senti io visto letto tanto perché voglio arrivare preparato non solo per l'intervista ma anche per il film che avrò il piacere l'onore di vedere questa sera grazie anche all'invito di un collega giornalista che sta curando l'ufficio stampa che è roberto tedesco e che voglio ringraziare e mi è piaciuta molto una tua definizione chure è un fiore cresciuto nell'asfalto si rende tantissimo questa questa immagine perché appunto chure nel film le vediamo la vediamo come un personaggio inizialmente molto caricaturale quasi a una femminilità quasi caricaturale eccessiva con un trascorso molto impegnativo come poi è nella maggior parte dei casi delle persone transgender dobbiamo secondo me fare un passo indietro perdonami e raccontare un attimo la storia di chure perché magari chi ci ha seguito con attenzione la scorsa settimana già la sa chi arriva oggi per la prima volta dice ma di che parla chure puoi anche ricordarci un po per sommeline la la trama si parla di un incontro di due anime in un contesto molto violento molto sporco molto crudele dove appunto queste due anime che hanno alla fine due personalità due modi di stare al mondo molto diversi tra loro che si scontrano in qualche maniera nello scontrarsi si smussano a vicenda e conoscono realmente se stessi e da qui tutti tutti gli antagonisti che impediscono questo tipo di di conoscenza di relazione è cambiamento è qualcosa che può essere aiutata dalle immagini questa storia quindi ci facciamo dare l'aiuto non sono immagini qualsiasi sono delle immagini dedicate di questo veramente voglio ringraziare di cuore giampiero il regista perché ha voluto fare un piccolissimo montaggio per noi noi in gergo tecnico lo chiamiamo teaser perché la scorsa settimana abbiamo fatto vedere il trailer questo teaser è un frammento del film dove ci sei solo e soltanto tu lo sapevi sei pronta vediamolo insieme vivian bellina in queste immagini mentre nel frattempo alla radio c'è prince con gold e giampiero è collegato dice noi spolerate troppo scusa così abbiamo il dopo audio evan andiamo col trailer si ok sono sono 30 secondi 30 secondi 30 secondi veramente intensi di silenzio con i due personaggi che si guardano e queste braccia alzate giampiero dice non lo spolerate troppo però c'è molto difficile di liberazione no sì quello lì è un momento in cui si raggiunge quasi uno stato di di fede nel nel rapporto tra ciore e salvo in cui ciore fondamentalmente è il il perno più saldo in questo perché ha sicuramente ha sicuramente quel coraggio che può permettere a salvo di rimanerci dentro e non perdersi nella sua vita coraggio inteso anche come cuore a proprio agio bellissimo nello stare appunto nelle vicissitudini della vita a palermo in quel contesto secondo te è un film che mancava a palermo di quel film ovviamente andrà ovunque ma il fatto che viene raccontato in una città come la nostra tu che la conosci la vivi ci ha detto vivi a ballarò quindi vivi nel cuore della città cosa può significare portare questa storia sullo schermo e averla raccontata tra le vie di questa palermo sicuramente in questo film questo film parla di un po di tutti ci sono degli aspetti in questi vari personaggi che abbiamo un po tutti dentro chi l'uno chi l'altro per quanto riguarda sicuramente anche la realtà trans è molto realistico facciamo mille discorsi sui diritti e sull'integrazione e sul fatto che le cose sono diverse in un certo qual modo poi però ti fai un giro a ballarò e la realtà è ben diversa e la realtà di tutti i giorni è ben diversa questo film ti mostra anche questo aspetto oscuro che fa parte della nostra vita secondo me non c'era un film così a palermo non credo di averlo mai visto un film così Eliana fammi ricordare che il film di stasera apre la nuova edizione 2023 del Sicilia Queer Film Fest sappiamo è un festival che si dedica molto alle tematiche LGBT ma la storia di Vivian è una storia veramente di grande coraggio io ieri mi sono permesso di chiederle una piccola biografia mi ha mandato un testo che ho molto apprezzato Vivian in genere quando preparo le interviste con gli ospiti mi mandano un po' il curriculum tu mi hai voluto regalare ecco l'ho preso come un dono le tue emozioni le tue sensazioni quindi se torniamo in radio e continuiamo a parlarne vi ricordo come sempre che la nostra diretta di Open Day Cinema come tutti i programmi di Radio In è in streaming sulla pagina Facebook di Radio In ed è lì che potete trovare la versione integrale delle nostre chiacchierate con i nostri ospiti potendo anche vedere delle immagini come in questo caso alcuni frammenti di ciurè che verrà presentato questa sera per la prima volta in sala abbiamo già la scorsa settimana ha parlato di ciurè di questo lavoro di Giampiero Pumola il suo primo lungometraggio il suo primo anche abbiamo detto che è il suo primo lavoro da regista e se ne sente parlare tantissimo ci sono grandissime aspettative Giampiero lo dico anche a te così l'ansia la condividi non è giusto farla venire a Vivian da sola non mi sembra carino meglio parteciparle anche queste emozioni in queste prime volte legate a ciurè c'è la prima volta da attrice di Vivian che arriva da protagonista e Ivan tu sei rimasto colpito dalla sua presentazione sì ma anche dal suo coraggio perché ecco dicevo poco fa in offline che questo tuo pensiero che mi hai fatto dono nel messaggio che mi hai mandato mi ha molto colpito cioè tu hai 18 anni hai preso il coraggio a piene mani hai deciso di avviarti a questo percorso di transizione portandoti però tante ferite questo un po' mi ha commosso sì di solito si dice che arrivato a un certo punto nella vita di una persona transgender scegli di fare il cambio di effettuare il percorso in realtà non è una scelta io sono nata davvero un fiore dall'inizio che ha dovuto rinnegarsi e in qualche maniera nel male e nel bene è difficile dimenticarsi di se stessi quindi non sono stata bene per 18 anni in qualche maniera c'era appunto questa questa vita sfocata appunto dove chiaramente tornava la mia natura e mi faceva sentire che effettivamente non ero nel posto giusto ero nella vita sbagliata non ero accolta da nessuno a 18 anni è arrivata l'esplosione in cui ho detto o vivo o soccombo o continuo a soccombere e sono stati 18 anni comunque di vita tra virgolette persa c'è anche un po' questo tabù sulle persone trans che oh mio dio non tocchiamo i bambini sì ognuno fa le scelte che vuole ma io da dai 0 ai 18 anni ero una bambina trans quindi avevo il diritto di vivere sin dall'inizio la mia natura non è una scelta che effettui a 18 nel mio caso e per fortuna perché potevo arrivare a 50 anni sposarmi e mentire a me stessa per tantissimo tempo cosa ti ha aiutata a fare poi il passo tu aspettavi soltanto l'età? aspettavi soltanto di avere il diritto di poter decidere per te stessa? no no non è stata l'età è stato poi un se posso chiedere certo certo più che altro perché penso che nel momento in cui tu oggi ti ritrovi a raccontare la tua storia e lo fai anche da attrice protagonista di un film il tuo messaggio è un bel esempio è una testimonianza assolutamente diventa un modello di riferimento pensavo la stessa cosa avevo qualche timore da questo punto di vista assolutamente una bella testimonianza sì e sono molto contenta di questo non è stata appunto l'età che mi ha fatto decidere di di venire fuori semplicemente mi accorgevo che volevo amare volevo esistere volevo esserci davvero nella vita e tutto mi veniva contro purtroppo dico anche anche la mia famiglia tutti quanti a tal punto che dici devo vivere devo sopravvivere perché comunque non non e viene prima di tutto il resto se non vivi non è stato semplice però veramente ti mettono i bastoni fra le ruote in tutti i sensi io davvero mi chiedo come faccio a essere viva dai dico sul serio non voglio essere drammatica sei una bellissima testimonianza e stasera ti prenderai tanti di quegli applausi di cui sono certo assolutamente perché è come se conoscessi questo percorso Eliana io vorrei un attimo spezzare questo momento e riportarlo un po' con una leggerezza che ci appartiene c'è un'altra clip che ho voluto rubare dal press kit che è il backstage del film non il trailer ma il backstage quindi se tu vuoi lo switchiamo su facebook e lo facciamo mentre alla radio c'è Tiziano Ferro con il mestiere della vita faccio io Ivan faccio io perché poi mi lasci la musica ci blocca nel video e mi dici come è successo? Shora è un fiore cresciuto sull'asfalto mi pare perché ti canti non so scattare via e chi fa? faccio con la film meravigliere? non sono davanti a un pubblico ma anche sì tutti i giorni Palermo darà tantissimo questo film Palermo è l'unica città che può ospitare questo film e effettivamente ci siamo tutti con le proprie cose con le proprie staccettature con i propri mostri interiori e soprattutto non è detto che deve essere la vita a decidere cosa sei non è detto che quella tua voce interiore sottile che magari hai solo tu non possa esistere davvero e quando Giampiero ci diceva che il cast era tutto palermitano dovevamo credergli ma soprattutto abbiamo riconosciuto un Ernesto Tomasini forse in parallelo lui che vive a Londra questo ritorno un po' a Palermo è anche un po' una sfida no? per lui lo è stata sicuramente assolutamente sì senti come è stato lavorare con loro c'è anche Maurizio Bologna c'è Vespertino no Vespertino non c'è scusami c'era nel film sì ma non c'è nel film poi ha preso il suo ruolo Maurizio Maurizio Bologna com'è stato? fantastico impegnativo sicuramente impegnativo poi lì nel in quel mese in cui abbiamo girato ci ho capito ben poco ti dico la verità perché eravamo immersi totalmente quindi proprio sono state fantastiche alcune scene per esempio in cui c'erano delle esibizioni proprio in cui era uno spettacolo nel film perché avevamo un pubblico dove dovevamo esibirci e in più il film cioè le telecamere che ci riprendevano per fare il film quindi è stata una doppia un mizzo un teatro filmato assolutamente sì cinematografico non ce l'aveva raccontata come questa cosa no ma poi tra l'altro sto rivedendo un po' queste immagini live dei mercati del pesce mi veniva in mente quello che lui diceva io adoro stare dietro la macchina sono nato attore e mi è piaciuto molto gestire gli attori però in questo film avendo un ruolo da protagonista ovviamente ha dovuto sdoppiarsi un po' come facciamo noi ma continuiamo a parlarne fra qualche istante perché c'è la pubblicità fra pochi secondi torniamo ancora in diretta insieme ti faccio spuntare il bernoccolo prima della prima ragazzi mi uccidono come ti vestirai stasera già deciso? ho comprato vari cambi perché ho detto nella follia di cui sono fatta cambio idee all'ultimo momento quindi hai più soluzioni sì volevo meno ansia quindi ho detto vabbè sì ho queste scelte vediamo all'ultimo come mi sento ci sono più al terreno scusami non ci sta anche giusto c'è la prima da protagonista sì è una domanda che odio in realtà odio queste cose no perché io riprendo la sinossi del film tra cemento ferro e paillettes sì questa è proprio una stringa che io ho memorizzato che si resta di cemento non glielo auguro di ferro neanche ma neanche di paillettes ma neanche di paillettes sono un po' più sobera rispetto a Cura quindi nessuno nessuna delle tre ma non mi dispiace niente non era un indizio buono per questo argomento ma poi una cosa di stile che chiedo che c'entri mi sono inserito e gli ho detto se c'erano le paillettes e lei mi ha detto la odio questa domanda quindi chi è in ascolto stasera non faccia questa domanda a Vivian sì no vabbè lo vedrà chi è lì stasera lo vede non è che deve chiedere è perché poi c'è ma io spero di nascondermi il dibattito ti mette un po' di appena finisce il film con i titoli di coda devi salire sul palco funziona così Giampiero mi ha promesso che non mi faceva parlare quindi Giampiero ti odio se lo fai ma oggi valeva training quello di stamattina allenamento in realtà siamo stati pagati alla fine lo farò però è anche il mio diritto odiarlo in questo momento la produzione ci ha detto preparatemi Vivian per stasera no non è vero non è vero ti sta prendendo in giro te lo giuro finirà così perché finisce così a tutte le prime però in questo caso specifico diciamo sta calcando un po' lo sentiamo un po' nostro ti ho detto che si ricorderà di noi per tutta la vita perché è la prima la sua prima volta in radio quindi è un imprinting è capito quindi facciamo facciamo un po' di bella figura facciamo i bravi pure noi vi porterò sulla coscienza esatto capito torniamo in radio ci abbiamo questi ultimi tre minuti insieme Farrell Williams ci ha portato down in Atlanta ma noi siamo tornati qui a Falermo in questa nostra bellissima radio in per open day cinema stiamo chiudendo in bellezza ricordando che questa sera a Rouge Noir c'è la prima di Churet non so se ci sia l'opportunità di riuscire a vederlo proprio in questi giorni ma poi avremo l'opportunità di poterlo vedere anche nelle sale a partire da domani e quindi se non è per stasera e per altri giorni sicuramente di stasera beh stasera è la prima con il cast è solo a inviti anche domani ci sarà una replica appunto della serata con il cast sempre a Rouge Noir proprio perché avevamo esaurito i posti abbiamo fatto una replica appunto allora io voglio venire domani bravi che stasera sono dai ci diamo il cambio ok allora facciamo una cosa lancia tu le domande che vorresti fatte così ti prepari già le risposte oddio è marzulliana no però scusami se lei le lancia adesso così poi si prepara tipo quella cosa classica che vabbè allora chiedo a te tu che sei il giornalista quali sono le domande che potrebbero diamole una mano è venuta qui ha dedicato del tempo a noi nel giorno della prima invece di concentrarsi su questo cioè diamo anche una mano quali sono le domande che potrebbero farle più spinose secondo te cosa ti aspetti dopo questo film nella tua casa come sei stata scelta perché il regista ha scelto te perché ha scelto te culo forse no in realtà è un sogno del destino io sapevo che mi sarebbe successa una cosa del genere prima o poi nella vita lo sapevo sentivi questa energia sì sì lo sapevo e sapevo anche che mi avrebbe scelta altrimenti peggio per te vado più in profondità mi ha provocato vai 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 è un riscatto questo da parte tua è un po' un riconoscimento è un po' una gratificazione di fronte anche a un percorso così doloroso un po' tutte le cose anche una sfida sicuramente una sfida perché c'è un esporsi molto grande che che però ci sta è politico per me ed è per tutti per le trans ma per tutti e sicuramente e sicuramente questa potrebbe essere un'altra domanda se c'è un messaggio che tu a partire da questo film vorresti lanciare alle altre donne trans e questa è un'altra domanda dico che che potrebbe essere posso rispondere se vuoi sì sì dai dico a alle ragazze alle ragazze trans alle mie sorelle trans di sentirsi di sentirsi meritevoli e degne di essere amata e di amare di dire a voi stesse quando per esempio le altre donne le donne genetiche dicono che essere donna significa avere una vagina avere un paio di tette avere dei cromosomi avere un utero delle ovaie quindi noi sappiamo per quello che abbiamo passate cosa significa essere donna e non avevamo nulla a cui appigliarci per esserlo che è una cosa molto ma molto più grande che è nel cuore e nell'anima e anche agli uomini potremmo dire di fare un po più pace con il loro aspetto femminile di entrare in contatto con le loro emozioni e di non avere paura e non dare ascolta ai pregiudizi perché poi alla fine siete attratti da noi quasi tutti stop zan zan è finita basta non c'è più diritto di replica né di appello assolutamente no anche perché ovviamente doveva chiudersi così questa intervista abbiamo fatto un giochino negli ultimi minuti sulle domande che potrebbero esserci stasera sei più che pronta è stata una simulazione vai tranquillissima però le risposte sono state serie altro che simulazione le risposte sono state risposte di chi? e ci hanno appagato almeno personalmente mi sento molto appagato vedi è arrivato quindi noi ti ringraziamo Vivian per essere stata qui con noi ti facciamo i complimenti anche se ancora dobbiamo vedere con i nostri occhi ma ci hanno detto grandi cose della tua performance vai a darci senza aspettative comunque ok ma siamo molto curiosi quello sia c'è un trailer molto ben fatto che abbiamo visto che abbiamo apprezzato bel cast una sapiente regia un simpatico regista e quindi non vediamo l'ora di poter vedere appunto nei prossimi giorni in sala ciore grazie mille Vivian Bellino grazie grazie chiudiamo qui questa giornata Ivan bella intensa come ti superi la prossima settimana? eh tosta difficile difficilissima ho già due tre ospiti quasi chiusi ti vorrei dire che la prossima settimana saranno compiuti i nostri due anni di Open Day Cinema dai eh sì perché era la prima settimana di dicembre quindi mi sa sì che siamo spegneremo due candeline a ridosso del nostro secondo compleanno ok grazie Ryuki regia grazie Ryuki grazie Ivan Scinardo grazie a tutti voi che ci avete seguiti adesso lasciamo la linea a Sara Priolo continua sul palinzesto di Radio In tutta la nostra programmazione noi ci risentiamo domani ciao buona giornata